Nuovo giorno metà settimanale di GTA V Online, valido dal 25 di gennaio al 1 di febbraio. Uscito un nuovo contenuto, le Drag Race. Le veicolo al padio al casino questa settimana alla Grovler, mentre per le veicolo in sposizione e il concessionario di lusso abbiamo la Leutian e l'Impaler LX, mentre per la corsa premia abbiamo la Xeon Classic, top 5 4 giorni di fila in gare lo Santo Scarmitta. E nello showroom di Simon troviamo la Torero, la Kalahari, la Futo, la Jester e la Ruiner. Due perre attivi su Drag Race, contratti autoafficina e Renoant. Sconto al 50% sull'iscrizione allo Santo Scarmitta, takeover e tute da gara dello Santo Scarmitta. E infine uno sconto al 30% sull'autoafficina, modifiche più upgrade, Calico GTF, Euros Dominator ASP, Sultan RS Classic e le tute da gara HSV. Per questo video aggiornamento è tutto, vi invito a lasciare un follow.